Ciao, sono Sara e voglio darti un caloroso benvenuto in questo nuovo video. Oggi andremo a scoprire insieme ben 10 cose che dovresti sapere su Facebook nel 2021. Anche se siamo ormai a luglio, metti di comodo perché sono certa che il video ti piacerà moltissimo. Come sempre, prima di iniziare, ripassiamo le regole di casa. 1. Se ancora non l'hai fatto, non c'è momento migliore per iscriversi al canale. 2. Se il video ti sta piacendo, lascia un like e porteremo altri contenuti come questo. E ora, iniziamo! Numero 1. Nonostante il tempo e gli altri competitor come Instagram, Facebook è un social con tantissimo traffico. Infatti è stimato che 2,80 miliardi di utenti attivi mensili utilizzano Facebook, mentre sono 1,84 miliardi quelli che lo utilizzano ogni giorno per postare, commentare e condividere la propria vita. Se anche tu ti colleghi quotidianamente, lascia un bel like. Numero 2. Qualche mese fa tutti gridavano Facebook è morto! Tuttavia, i numeri dicono che la realtà è ben diversa. Infatti, Facebook è il social che occupa il primo posto del podio con ben il 59% degli utenti di internet. Niente male, no? Numero 3. Stiamo parlando di numeri e allora diamone qualcuno in termini di Facebook Ads. Se non sai che cosa sono, trovi un link qui sotto ad un video che ho registrato. Solo nell'ultimo quadrimestre del 2020, Facebook ha generato ben 27,2 miliardi di dollari di entrate pubblicitarie, confermando che è ancora la piattaforma preferita per l'advertising online. Numero 4. Su Facebook non troviamo solamente utenti privati pronti a raccontare ciò che gli succede, anzi, sempre più frequentemente i business online e offline si spostano su questo social e infatti ad oggi più di 80 milioni di piccole aziende in tutto il mondo utilizzano le pagine Facebook. Siamo a metà strada e se il video ti sta piacendo ricordati di iscriverti al canale. Numero 5. Gli italiani sono sinceri? La risposta è sì. Infatti, uno su due dichiara di utilizzare Facebook e a sconfiggere tantissime credenze alla numero 6 troviamo una statistica davvero importante. Il 65% degli utenti di Facebook ha meno di 35 anni, dato molto importante quando prepariamo il nostro piano editoriale per la nostra pagina o il nostro gruppo. Ti sei mai chiesto se la maggior parte delle persone si colleghino tramite computer, tablet o cellulare? Troviamo la risposta nella curiosità numero 7. Infatti, il 96%, una maggioranza importante, accede a Facebook da mobile, utilizzando quindi il cellulare. Eri convinto che fosse una percentuale più bassa, vero? E invece ti stupirà ancora di più ciò che ti aspetta il punto 8. Parliamo di tempo medio su Facebook. Sapevi che la tempistica media è poco meno di un'ora al giorno? 58,5 minuti, ad essere precisi. Sì, hai capito bene. Ogni utente dedica un'ora al giorno per pubblicare, postare e commentare. E anche un po' curiosare qua e là. Siamo alla penultima statistica che devi assolutamente sapere nel 2021. Parliamo ancora una volta di business e Facebook ads. Una percentuale sempre più crescente, ovvero il 93% delle aziende presenti, dichiara di utilizzare le Facebook ads per promuoversi e raggiungere potenziali clienti. Ah, parlando proprio di possibili consumatori, la statistica numero 10 ci rivela un dato molto importante. Infatti, il 78% dei consumatori italiani ha confessato di aver trovato o scoperto un prodotto da acquistare proprio grazie a Facebook e alle pubblicità che l'hanno raggiunto. Sento che Facebook non fosse un luogo perfetto per il tuo business, ora non hai più scuse. Queste erano le 10 cose da sapere assolutamente su Facebook nel 2021. Se il video ti è piaciuto, non ti resta che iscriverti al canale e condividerlo con amici e colleghi. E noi ci rivediamo nel prossimo episodio di Pillole di Marketing. E noi ci rivediamo al canale e condividi al canale e condividi al canale.